Ciao a tutti, accetto la sfida dell'Ice Bucket Challenge del mio amico Teo Luisita che ringrazio molto e a mia volta vorrei nominare il mio grande amico pilota Matteo Baiocco, l'altro che è Danilo Petrucci e poi dato che è il giorno del suo compleanno anche il mio fratello Corrado, detto Corrado Shorts Corti questo è il secchiello con il ghiaccio se vuoi inquadrare, dare un occhio se vuoi posso fare anche la traduzione Ciao a tutti, accetto la sfida del mio amico Matteo Luisita e nominare il mio fratello perché oggi è il mio annuncio e il USA Matteo Baiocco e Danilo Petrucci ho già fatto la mia donazione e ora è il momento di bere un cuore ho già fatto la donazione, adesso è ora di fare la doccia speriamo che non sia tanto fredda ho ho Grazie.